Musica Amici di Parentesi Storiche, sono Martina Tapinassi e oggi ho visitato per voi lo spazio museale Galileo di Firenze. Il museo è ospitato in uno dei più antichi edifici della città, Palazzo Castellani, già nominato come Castello d'Alta Fronte. Nei secoli l'edificio è appartenuto a varie famiglie, come gli uberti, i bardi e i buoni insegni. Il palazzo, fra l'Ottocento e il Novecento, ha ospitato la Biblioteca Nazionale e l'Accademia della Crusca e solo dal 1930 è sede del Museo di Storia della Scienza. Nel piazzale antistante l'entrata, il visitatore può ammirare una meridiana, ornamento matematico costruito solo nel 2007. Il museo, organizzato in 18 sale, nasce dall'unione del collezionismo mediceo-lorenese. Astronomia, rappresentazioni del mondo con i globi, l'Accademia del Cimento, ottica, pneumatica ed elettromagnetismo. Questi sono solo alcuni dei temi che vengono affrontati nel tour. Alla morte di Giancassone dei Medici, nel 1737, il governo della Toscana passò alla famiglia Asburgo-Lorena. Il due gran duca di Toscana, Pietro Leopoldo, fu promotore della riorganizzazione delle collezioni scientifiche e le spostò dagli uffizi a Palazzo Torrigiani. Il museo, in quell'occasione, fu anche dotato di un osservatorio astronomico. In Lorena erano particolarmente interessati alla medicina e ne sono testimonianza i 40 modelli ostetrici di terracotta e 21 modelli di cera, corredati da 6 vetrine di strumenti chirurgici, eseguiti a scopo didattico. Il museo è inoltre dotato di una biblioteca di ricerca e di uno spazio didattico dove vengono organizzati incontri e conferenze. Consiglio la visita del museo agli appassionati di scienza e anche a chi è curioso di vedere una carrellata di vita fiorentina di quel tempo.